Partita del secondo round di questi play-off, che vede i Blumr contro IRN. Blumr che schierano Conqueror, Shikishima, Des Moines, Venezia, Moskva, Nevsky, 3DD, Giering e 2 Dering in pratica. IRN schiera Yamato Kremlin, Des Moines, 2 Moskva, 1 Stalingrad, 1 Giering e ancora una volta 2 Dering. Ormai il Dering è il campione di questo King of the Sea praticamente, è uno dei D2 più usati, non a caso, non a caso. Allora, IRN squadra rossa, bravo. Vediamo un po' come si iniziano a disporre le squadre. Dering che si dirige, Dering di Blumr che si dirige verso Charlie, speculare è il movimento del Dering di IRN. Uno dei Dering di IRN si dirige verso Bravo e probabilmente si scontrerà contro i due DD di Blumr che saranno il Giering e il Dering e che hanno un supporto di un Des Moines. Quindi ancora una volta un DD del DERN si troverà a contestare un cap contro tre navi, di cui una è una nave radar. Per quanto riguarda invece il movimento delle corazzate, vediamo la Shikishima che si dirige verso il settore Bravo Charlie, mentre la Conqueror Alpha Bravo per quanto riguarda Blumr, IRN manderà la Kremlin su Alpha e la Yamato rimane un po' centrale, ma comunque su Bravo Charlie. Andiamo direttamente a vedere che cosa succede, ci sono degli smoke già. Come? Fatfinger? Probabile. Nel frattempo è stato spottato il Moskva di Danny Expert sul quale apre il fuoco il Des Moines di Resengan. La Kikanna si è andato a spiaggiare contro l'isola per poter frenare rapidamente ed entrare nel Cap in retromarcia. Siluri preventivi proprio sul fumo di la Kikanna. È un fumo che in teoria ha lo scopo di coprire proprio Danny Expert, anche se per il momento... Vediamo un po' se lo vedono. Sì, Danny Expert è spottato, quindi per adesso il fumo di la Kikanna è abbastanza inutile, anche perché Danny Expert viene spottato proprio dal Daring sull'altro fianco, su Charlie. La Kikanna entra nel Cap, radar del Des Moines. Vediamo chi è che aprirà il fuoco sulla Kikanna. La Kikanna è già pronto ad uscire. Sembra che per il momento nessuno aprirà il fuoco. Anche Hoplipop potrebbe aprire il fuoco, ma preferisce rimanere undetected, sebbene la Kikanna sia ancora spottato dal radar del Des Moines. Apre invece il fuoco la Shikishima, che con una salva di AP, vediamo se riesce a prendere la Kikanna, una overpen che sicuramente non impensierisce il DD italiano, anzi, italo-americano. Ok, sorvoliamo su queste battute. Il Cap di Alpha è contestato, i due Gearing si confrontano l'uno o l'altro con un'isola nel mezzo, quindi per adesso la situazione è abbastanza statica su questo fianco. Ci sono dei tiri incrociati, vedete che è spottato Jotsu dal radar dello Stalingrad di Matteo, e il Moskva di Dany Expert può provare a piazzare qualche colpo proprio per questo tiro incrociato. Ve l'ho detto, questa mappa è sempre abbastanza statica come posizione, lo capite dal movimento di questi cruiser radar. Vedete, il Des Moines sta cercando di raggiungere quest'isola e da lì presiderà il Cap di Alpha. Ha trovato il Gearing di Jotsu, vediamo se riescono a sfruttare questa situazione con il Moskva che trova la cittadella di Venom. Arrivano i colpi della Shikishima, Venom prende ancora una salva e deve stare attento perché questi siluri sono pericolosi. E' sotto fuoco, è troppo scoperto. Riesce ad eliminare i Gearing, è un trade, forse. Vediamo se riesce a evitare i siluri, riesce ad evitare i siluri. E' detected? No, riesce a salvarsi. Ok, colpi della Shikishima, blind e vanno a vuoto. Venom deve trovare una posizione da cui mettersi al sicuro. La Kremlin ha pushato nel Cap, è sotto il fuoco del Des Moines. Deve andare in copertura o la Shikishima potrebbe farle un brutto scherzo. Matteo deve stare attento, arrivano i colpi della Shikishima, sta ricrocedendo troppo, rischia di prenderli. E no, per fortuna la Isola lo salva. Ho brutti ricordi di colpi che passano sopra le isole. Abbiamo un bug grafico qui, è sempre molto bello vederli. Su Charlie la situazione è contestata e statica, anche se il Daring di Hoshimiyan Chigo, è il name sempre più difficile da pronunciare, rischia di spottare Scaglia, Scaglia spottato, smocca, non risponde al fuoco, lascia il cap, lascia il cap, si lascia il cap, radar di Dany Expert, vedete, gli scontri ci sono, gli scontri a fuoco ci sono, non si stanno risparmiando le squadre, però in realtà non c'è movimento di navi, c'è presidio di posizione. Il Daring è sotto radar e quindi incendiato, due incendi a bordo, ripara adesso, apre il fuoco sul Daring di Lucky Khan, che è spottato da radar a sua volta. Mi sono appena, ho appena realizzato che ci siamo persi una kill importante, ci siamo persi una kill importante, probabilmente supportata e dovuta al gioco coordinato di Venom e di Picchio. Il Demoin di Venom è riuscito a eliminare il Daring dei Bloom, buona partenza quindi per il RN, me la sono completamente persa. D'altronde sono anche da solo, forse se avessi avuto un co-caster, provvederemo per domani. Abbiamo già provveduto, non vi preoccupate, non dovrete sopportare solo la mia voce anche domani, ci sarà anche un'altra voce da sopportare. Per quanto riguarda la situazione abbiamo Gortan che presidia il cap dando il fianco al Demoin, ma Demoin che comunque è in una situazione poco piacevole e infatti prende danni, ne prende tanti, si muove indietro, vediamo, potrebbe riuscire, se Guaro avesse gli occhi su di lui sarebbe un bel colpo per la Yamato di Guaro. Vediamo se il RN lo vede, no, non lo vede. Non lo vede. C'è un vantaggio di 100k di HP per il RN per il momento, il cap di Charlie è di nuovo contestato, anche se è in mano a RN, tutti i cap sono in mano a RN e in realtà il cap di Alpha non è contestato, quindi sta lentamente dando i punti a RN, lentamente ma inesorabilmente. Vediamo il gruppo su Charlie di Bloom, cerca di pushare, di trovare il fianco di Danny Expert che sta cercando di posizionarsi in salvo dai colpi che gli arrivano dal fianco destro. è al centro della mappa, quindi è ovvio che la maggior parte del team nemico lo stia prendendo di mira. Però sta cercando di muoversi in avanti anche perché vuole provare a dare una mano sul daring di Hoplipop. Vediamo se riesce a mettersi in una posizione dalla quale può aprire il fuoco. In realtà no, sta guardando il Moskva. Ok, sta guardando il Moskva. lentamente RN sta lasciando il cap di Charlie per consolidare la sua posizione su Alpha e Bravo e sta prendendo di mira soprattutto il Cruiser Radar i Cruiser Radar che presidiano sia Alpha che Bravo per dare un po' di respiro ai suoi 3DT. la Kremlin di Gortan si sta muovendo in avanti e questo movimento sta veramente cambiando la situazione perché è un rullo compressore questa Kremlin adesso è più avanti dei suoi Cruiser è più avanti addirittura del suo DD di scorta e direi che con la prossima salva potenzialmente Gortan potrebbe risolvere il problema Des Moines e al tempo stesso iniziare a impazzinire in maniera decisa e infatti Gortan elimina il Des Moines e adesso il Moskva dei Bloom deve veramente giocarsi bene le sue carte vediamo come pensa di reagire è molto vicino a una Kremlin che ovviamente si è fermata perché deve ricordarsi che ha questa Conqueror sul fianco non può non può pushare ancora troppo però adesso è in una posizione della quale sarà difficile eliminarla neanche un push un ram può salvare questo Moskva può dare insomma al Moskva qualche speranza di contribuire all'uccisione della Kremlin la Conqueror è sotto fuoco del Des Moines smoccato da Picchio Piz e il Venezia è riuscito ad eliminare il Mastino il Moskva del Mastino che non è riuscito a disingaggiare era rimasto a presidiare il cap in questa posizione abbiamo detto che IRN stava cercando di disingaggiare da Charlie visto che bastano veramente i due cap basta la difesa dei due cap IRN per mantenere il controllo della situazione è riuscito a disingaggiare sia con Guaro che con Scaglia non è riuscito il Moskva di Il Mastino è comunque rimasto a cercare di danneggiare le due navi che stavano pushando su quest'altro fianco Gortan si è scoperto alla fine visto che è concluso l'accerchiamento è un ottimo lavoro di tutta la squadra su Alpha ha portato sia all'eliminazione del Moskva sia all'eliminazione della Conqueror a questo punto Gortan può tranquillamente arrivare in Alpha Matteo con una salva da lontano trova la Shikishima e mancano 95k di cioè i Bloom hanno ancora 95k ma si trovano a avere 150k di HP sto parlando di HP in meno rispetto agli IRN che sta semplicemente controllando la la sua partita il territorio e la mappa Scaglia sta torpando in allontanamento e a questo punto anche Guario sta pushando il Venezia va giù va giù anche il Daring di non mi azzardo a leggere il nickname scusate ma comunque il Daring dei Bloom e vediamo se il Venezia cerca di torpare si torpa Guaro Guaro prende due siluri vediamo se è pronto per plappare non era pronto per plappare non stava sparando al Venezia strano mi sarei immaginato un tentativo di eliminare il Venezia con una salva da vicino però Guaro è stato eliminato ok ovviamente il Venezia sta prendendo danni e sarà la prossima vittima di Renn non ho capito bene è vero che la partita è praticamente segnata e tra 20 secondi Renn vince e con l'eliminazione del Venezia che probabilmente avverrà a breve no del Daring ok va giù il Daring e finisce la partita il Renn si aggiudica la prima gara di questa di questo secondo round quindi Bloom 0 IRN 1 netta superiorità di Renn sinceramente ottimo controllo della mappa non non si può dire veramente niente ho cercato di seguire il più possibile le azioni più importanti alcune ce ne siamo perse peccato però decisamente il Renn non non vuole rischiare di andare alla terza no che non deve andare alla terza allora pensiamo già alla seconda Land of Fire potrebbe essere il caso di far partire un altro contesto quindi signori avete ancora un minuto prima della fine di questa lotteria scusa scusa ti ho detto contest ma è un giveaway mentre io posso occuparmi di invertire le squadre perché vanno invertite quindi il Renn sarà il team team alfa mentre bloom sarà il team bravo ok quindi bloom ok questo perfetto dovrebbe perfetto ok siamo siamo già pronti con la grafica chi chi sono questi bloom fatemi dare un'occhiata allora bloom bloom mermaids le sirene azzurre sono essenzialmente hanno anche dei giocatori italiani sono pan pan europei essenzialmente quindi hanno giocatori sei italiani Germania UK Spagna Ungheria e Grecia che risultati hanno avuto vediamo un po' hanno giocato nella qualificazione di domenica scorsa hanno vinto cinque partite su sette hanno perso contro i topaz e contro gli rnfs e sono alla loro prima partecipazione del king of the sea quindi sono già arrivati al playoff quindi comunque complimenti a loro sono un clan che in realtà gioca dalla prima stagione del clan battle quindi hanno una discreta esperienza se vogliamo come tempo nelle prime edizioni hanno ottenuto degli ottimi ottimi dei buoni risultati sono arrivati in lega tifone ma nelle ultime le più recenti si sono fermati nella stagione 9 Gale stagione 10 Squall e nelle ultime sono in Storm sono arrivati in Storm quindi hanno avuto un leggero calo per quanto riguarda le prestazioni in 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 clan battle però appunto per essere alla loro prima partecipazione del king of the sea ed essere già arrivati ai playoff è un ottimo risultato ok stiamo aspettando il ready è già pronta in realtà bloom stanno ancora settando aspettando non sono ancora tutti ready manca ancora un giocatore per dare i ready sono curioso di vedere che cosa succederà per la per l'ultima partita che seguiremo visto che comunque adesso le stanze vengono vengono create dai referi quindi in teoria dovrebbero aspettarci indipendentemente da quello che succede ok hanno tentato di far partire la partita ma il server è sovraccarico quindi siamo appena tornati tutti in sala addestramento ci sono dei simpatici commenti sul fatto sull'avvenimento ok stanno mettendo tutti di nuovo pronto vediamo se ci siamo questa volta forse ok siamo partiti quindi gara 2 del secondo round di questo playoff del king of the sea edizione numero 12 allora IRN squadra verde alfa schiera Ohio Yamato due Des Moines un Goliath un Moskva uno Stalingrad un Giring e un Dering quindi scendono lasciano un DD in porto sostituito da un Cruiser i Bloom schierano una Conqueror una Shikishima due Des Moines un Nevsky uno Stalingrad e Giring e i soliti due Dering quindi IRN va più su una punta più sugli HP e sui radar abbiamo quattro radar dalla parte di IRN quindi Des Moines quindi i radar a 10 km e i due radar lunghi a 12 km di Moskva e Stalingrad mentre per quanto riguarda i Bloom anche loro schierano ovviamente quattro radar però hanno meno Cruiser quindi un Cruiser in meno vediamo come IRN sfrutterà il Goliath che tanti pensieri e fastidi gli ha dato nella prima partita nel primo match allora vediamo un po' i Bloom schierano mandano il Dering uno dei Dering verso Bravo l'altro Dering verso Charlie e su Charlie stanno mandando De Moines i due De Moines e la Shikishima mentre per quanto riguarda uno dei demo dello Stalingrad scusate sono nomi molto vicini lo Stalingrad sta andando a posizionarsi su quest'isola a coprire il cap di Bravo Conqueror e Nevsky saranno sul fianco alfa per quanto riguarda IRN ha un Dering che sta pushando il centro ma non il cap quindi probabilmente ha lo scopo di tagliare e andare verso Charlie seguito dal De Moines sul fianco Moskva che rimane molto largo per non farsi spottare visto il concealment stratosferico e la Ohio che vanno in supporto del De Moines lo Stalingrad speculare a quello degli avversari per quanto riguarda sul cap di alfa il gearing di IRN è più avanzato probabilmente è sponato più vicino e ha di supporto il Goliath il De Moines è più lenta ma comunque in avvicinamento anche la Yamato quindi IRN lascia il cap centrale al nemico e tenta evidentemente di contestare però con il solo daring per adesso il cap di Charlie daring che si trova di nuovo a dover affrontare il daring avversario ma ancora una volta se ci fate caso il posizionamento è un po' diverso perché ok sulla distanza sono supportati tutti ma il Danny Expert adesso è dietro un'isola non può in caso il Papu Gomez spottasse un DD non può dargli una mano attivamente e quindi ci saranno solo il Moskva e Gortan che con la Ohio che però aspettate un secondo anche qua ok situazione gestita da Hop Lipop che sta comunque entrando nel cap il Demoine è a 11 km usa il radar per adesso Papu Gomez è al sicuro ma vedete si sta avvicinando inesorabile il Demoine quindi tra poco verrà spottato e direi che verrà spottato Papu ma non verrà spottato Hoplipop perché Danny Expert è più lontano del Demoine dei Bloom infatti ecco lo spottato Papu e se ne sta andando il più rapidamente possibile arrivano i colpi anche della Shikishima ci provano arrivano i colpi anche dello Stalingrad dall'altra parte che copre Bravo Papu sta cercando di uscire dal raggio del Demoine che comunque lo ha pressato ha trovato la sua posizione che è dietro l'isola in G8 mentre Danny Expert è più largo apre il fuoco adesso proprio sul Demoine che sta disturbando il suo Dering si va a posizionare in questa posizione dalla quale cercherà di disturbare proprio con gli HE evidentemente il Demoine di Rasengan che è il primo obiettivo di RN su questo fianco è già danneggiato non in modo decisivo ma comunque ha già subito un po' di danni infatti sta retrocedendo lentamente la Yamato di Guaro ha preso di mira la Shikishima di Bloom se vedesse il Demoine vediamo un po' no non lo vede non lo vede non Danny Expert sta continuando a tentare di trovarlo blind ma come vedete è ben lontano dalla posizione in cui Danny Expert lo sta cercando sull'altro fianco abbiamo i due cruiser che sono praticamente da soli perché il gearing di Picchio Piz mentre li stava ascoltando all'inizio si è allontanato per andare a contestare bravo quindi adesso abbiamo Venom e Ulver che sono da soli a presidiare questa parte di mappa direi Venom sta sparando blind quindi hanno idea di dove sia il gearing nemico ma non lo stanno trovando ancora gearing che ormai abbiamo imparato a vedere questa diciamo relativamente è una vecchia tecnica ma che era un po' passata di moda in alcune versioni precedenti dei King of the Sea proprio perché cambiando le navi cambiano i meta ma è molto frequente vedere questi smoke lunghi che coprono i cruiser che ovviamente sfruttano la situazione per poter spammare e danneggiare il nemico senza farsi prendere di mira Venom non ha problemi ad evitare i siluri del gearing apre di nuovo il fuoco direi che non sono colpi blind a questo punto si sono ancora blind ma il cap di alfa per adesso con Venom posizionato in quella posizione è saldamente in mano di RN almeno per il momento fino a quando il gearing non riuscirà a piazzare qualche bel siluro la situazione su quest'altro cap invece è più complicata perché Picchio Piz deve stare attento a questo siluro Picchio Piz deve stare a probabilmente l'idroattivo che riesce a evitarlo sono siluri singoli quindi il Dering ha provato a trovarlo senza usare tutti i suoi siluri Picchio Piz è entrato nel cap sta di nuovo tentando di conquistarlo ma sta arrivando di nuovo il Dering nemico che fermerà la cattura vediamo se fa in tempo a entrare si dovrebbe fare in tempo a entrare per fermare la cattura del cap tra l'altro è esattamente a 11 km e 5 dallo Stalingrad di Mighty Run che per adesso non attiva il radar vedete è undetected il Dering smocca adesso quindi segnala la sua presenza ma era ovvio che fosse lì vediamo se Mighty Run apre apre il fuoco cioè spotta con il il radar probabilmente lo ha ancora in cooldown mentre Picchio Piz è sotto fuoco proprio perché è radarato invece quindi ottimo uso del radar per quanto riguarda Bloom Picchio Piz è costretto a ritirarsi aveva quasi completato la cattura ma praticamente tutto da rifare per Picchio Piz vediamo se Mighty Run non sembra intenzionato ad aprire il fuoco anche perché ma in realtà lo prenderebbe lo prenderebbe e Picchio Piz avrebbe anche avuto la possibilità di aprire il fuoco dal dal fumo o aspettate che questi siluri singoli non sono un pensiero per Picchio Piz e forse dovrebbe riuscire a spottarli per Mighty Run ok mentre il Daring vedete ha lanciato la sua altra salva proprio verso il fumo dove non c'è più Picchio Piz Mighty Run ovviamente sa dei siluri perché gli ha spottati Picchio Piz quindi si sta mettendo dietro l'isola proprio ah ma non hanno raggio quindi retrocede incendiato ma i siluri non sono un problema ovviamente il Daring ha i siluri a 10 km quindi se avessi avuto il cervello acceso avrei anche potuto dirvi che non potevano arrivare allo Stalingrad ma sorvoliamo qua che cosa succede qua abbiamo Danny Expert e il Des Moines che si fronteggiano tra virgolette Ayo la Shikishima si è allargata moltissimo mentre la Ouaio è rimasta centrale un po' più a nord del capo di Charlie ma la Shikishima nemica si è allargata molto per cercare di trovare proprio un colpo su Danny Expert il problema è che lo sta trovando Danny Expert deve stare estremamente attento perché è permanentemente spottato e infatti i colpi della Shikishima non perdonano i cannoni della Shikishima sono decisamente illegali e il Des Moines può soltanto sperare nell'RNG questa volta il colpo è entrato e Danny Expert sta cercando di trovare una posizione dalla quale la Shikishima non riesca a prenderlo dovrebbe essere coperto adesso tanto è vero che la Shikishima cambia obiettivo e va a cercare proprio la Ohio di Gorton nel frattempo io ovviamente mi distraggo e il Des Moines di Venom ha eliminato il Daring il Des Moines di Venom ci ha messo lo zampino quindi è riuscito probabilmente a far passare i colpi dietro l'isola con il colpo arquato del Des Moines e ha trovato il Daring che stava contestando il cap a Picchio quindi adesso Picchio è riuscito a conquistare Bravo vedete mentre mi distraggo succedono cose nel frattempo è una lenta ma inesorabile un lento inesorabile logoramento del Nevsky il Des Moines e il Goliath se lo stanno lentamente mangiando e di qua andiamo a vedere di qua perché lo so che potrebbe sembrare ma Danny Expert qua in una situazione che non è proprio rosea perché ha un po' un sacco di navi che lo prendono di mira non solo la Shikishima ma ora anche il Des Moines che è a sud di Charlie lo sta prendendo di mira Mr. Vombat è sotto fuoco adesso i Bloom o le Blue Mermaid stanno cercando di scardinare la difesa di RN su questo fianco perché è oggettivamente il punto la zona nella mappa in cui hanno più forze dalla quale possono tentare di organizzare un qualche tipo di azione nel frattempo vediamo che RN non resta ferma sta muovendo il suo Stalingrad di Mighty Ren proprio dietro l'isola in una posizione che abbiamo visto spesso prendere dai cruiser radar e dalla quale avrà modo di infastidire non poco soprattutto il fianco della Conqueror per adesso cerca il fianco del Nevsky e potrebbe essere un bel colpo questo seguiamo questi colpi sul Nevsky vanno in acqua è riuscito ad angolarsi ma decisamente riuscire ad eliminare il Nevsky o comunque a danneggiare in modo consistente la Conqueror per scardinare questa parte della formazione dei Blue Mermaid sarà decisamente una ipoteca sulla sul risultato per i RN nel frattempo però stiamo attenti perché Guaro sta prendendo danni tanti e oh mamma la Conqueror ci mette uno zampino Guaro è incendiato ha mostrato il Broadside non è tanto un problema di mostrare il Broadside e quindi di rischiare cittadelle ma mostrando il Broadside in quel momento ha offerto un bel po' di sovrastruttura agli HE della Conqueror e direi che Guaro saluta il team e va ad aspettare il porto nel frattempo IRN si vendica e Mighty Run come vi avevo detto da quella posizione ha trovato facilmente il fianco della Conqueror probabilmente non ho la certezza perché non la stavo guardando esattamente ma la kill l'ha presa Mighty Run che adesso si concentra sul Nevsky si aspettava un movimento in avanti il Nevsky sta un po' giocando con la velocità avanti e indietro nel frattempo di là vediamo sull'altro fianco Danny Expert che è sotto push la Shikishima sta pushando riesce ancora a essere coperto però quindi per il momento non sembra essere eccessivamente in pericolo però si sta muovendo il Demoin mentre di là dall'altra parte in fondo vediamo Venom che ha un Demoin a 3000 quindi rischiano di perdere anche il Demoin IRN i due Demoin vediamo se riescono a prevenire questa questa situazione non piacevole Venom laggiù in fondo lo vediamo recuperare vita è a 6000 mentre qua sotto Danny Expert comunque è riuscito a intimorire un Demoin che ha quattro volte la sua vita quattro volte no ma più di tre e la situazione è in stallo nel frattempo la Shikishima prende dei siluri di Papu Gomez in questo momento è proprio in push la formazione dei Blue Mermaid hanno ripreso Bravo però Venom è riuscito a recuperare buona parte dei suoi HP buona parte insomma una decina di K di HP che comunque sono importanti a questo punto quindi non è più in estremo pericolo vediamo la situazione su Bravo però che cosa sta succedendo qua abbiamo lo Stalingrad che si sta muovendo si è mosso dietro l'isola ha raggiunto la posizione dalla quale in realtà è abbastanza coperto però stanno per perdere la Shikishima e questo è un grosso colpo per IRN perché i punti sono a mille e quindi la partita è aggiudicata definitivamente va a IRN che con la seconda vittoria si aggiudica anche il titolo di vincitore e ho di vincitore di vincitore di vincitore di vincitore di vincitore